Mi sono sempre piaciute le cose intelligenti come questa borsa della Givi che peraltro non conoscevo ma che ci è stata fornita al nostro arrivo in Nuova Zelanda dall'importatore neozelandese per Givi Eurobike. Intelligente per due motivi uno l'aggancio sul tappo del serbatoio velocissimo per chi va sempre di fretta voilà la borsa è attaccata la seconda cosa per chi come noi viaggia con molta elettronica la possibilità di avere un cavetto aggiuntivo che va attaccato all'alimentazione della moto e siccome l'interno è waterproof quindi resistente all'acqua semplicemente avremo un cavetto usb che ci permette di attaccare qualsiasi cosa noi dobbiamo ricaricare dicevo Givi impermeabile anche alloggio per la cartina con le sue tasche laterali lo sgancio ugualmente facile come l'aggancio una leva e la borsa elevata ovviamente con il cavo da staccare grande grande